La difesa della vita umana in ogni sua fase naturale e la difesa delle vite messe in pericolo dalla guerra in Siria o dall'indegno traffico dei nuovi mercanti di esseri umani. Sono stati molti i temi toccati nel dopo Angelus dal Papa, che ha ricordato la giornata per la vita indetta dalla Chiesa italiana, sollecitata ad aiutare la società a guarire da tutti gli attentati alla vita e ha poi accompagnato con una considerazione la giornata contro la tratta di persone di domani, esortando tutti ad aiutare i nuovi schiavi a rompere le pesanti catene dello sfruttamento. Ma prima di rivolgere gli auguri alle popolazioni dell'Estremo Oriente che domani celebrano il Capodanno Lunare e chiedere preghiere per l'imminente viaggio apostolico in Messico, accompagnandolo con un saluto al Patriarca Ortodosso di Mosca, Kirill, che incontrerà a Cuba, Francesco aveva lanciato un nuovo appello in favore di chi continua a fuggire dagli orrori della guerra in Siria. Auspico che con generosa solidarietà si presti l'aiuto necessario per assicurare loro sopravvivenza e dignità, mentre faccio appello alla comunità internazionale affinché non risparmi alcuno sforzo per portare con urgenza al tavolo del negoziato le parti in causa. Solo una soluzione politica del conflitto sarà capace di garantire un futuro di riconciliazione e di pace a quel caro e martoriato Paese, per il quale vi invito a pregare molto. Grazie. 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 Grazie.